La decisione del Viminale di autorizzare per Pasqua i viaggi all'estero ha sollevato numerose critiche tra gli albergatori. Da un lato l'amarezza e le preoccupazioni economiche con la Pasqua ormai archiviata a causa delle restrizioni anti-Covid. Dall'altro la frustrazione per le notizie che riguardano la possibilità di viaggiare per turismo verso l'estero, ora anche da una zona rossa, ma non in Italia. Una situazione definita paradossale dopo un anno di sacrifici da parte del settore ricettivo turistico e della ristorazione. Per gli operatori del settore si tratta di concorrenza sleale nei confronti delle attività che sono rimaste chiusi in vista di una ripartenza in sicurezza per la stagione estiva. Oggi purtroppo non è possibile viaggiare per turismo, questo ci fa un po' riflettere sulla mancanza di un coordinamento e di una regia nazionale che permetta di fare delle programmazioni e delle scelte che poi non vadano contro quelli che sono i flussi turistici che noi ci aspichiamo che torneranno presto quest'estate. Ci auguriamo che gli italiani restino in Italia e che gli italiani trascorrano le loro vacanze, le loro mete lungo le nostre coste, i laghi, le montagne, le colline. Ma sono convinto che sarà una stagione che appena sarà possibile viaggiare e in qualche modo riusciremo a salvare almeno qui sulla costa. Ovviamente noi ci auguriamo che quanto prima si possa tornare a viaggiare e a muoversi liberamente. Se non avverrà nei mesi di aprile ormai la Pasqua è stata compromessa, nonostante il tempo ci aiuti e sarebbe stato sicuramente un elemento favorevole. Ci auguriamo che però per maggio e per giugno possiamo aprire e ritornare a ospitare i nostri turisti che accogliamo e aspettiamo sempre a braccia aperte. Secondo lei che estate sarà quella del 2021? Sarà un'estate, mi piace definirla schizofrenica, nel senso che appena sarà possibile viaggiare ci sarà il fuori tutti. Dopo praticamente quasi sette, otto mesi di clausura le persone non vedono l'ora di uscire anche per mettersi alle spalle un po' quelle che sono stati questi mesi tristi e bui. E sono convinto che riusciremo anche a seguito dell'attività poi di promozione che comunque stiamo facendo e che partirà nel mese di maggio a iniziare la stagione prima possibile. Questo è quello che noi abbiamo come obiettivo. Grazie.